Da due settimane gli studenti dell'Istituto Comprensivo Rapisardi e La Carrubba svolgono le lezioni didattiche nel pomeriggio a seguito dei controlli strutturali sugli edifici scolastici di via Rosolino Pilo e via Trieste. La dirigente scolastica e le famiglie hanno optato per la soluzione interna cioè i turni pomeridiani condizionati al fatto che l'amministrazione comunale guidata da Ettore Di Ventura avrebbe dovuto provvedere al trasloco degli uffici comunali di via Lende dove sistemare le aule degli alunni e tornare a svolgere le lezioni regolarmente al mattino. Sono trascorsi 15 giorni ma ancora non si è fatto nulla. Ieri però si registra un nuovo sopralluogo nella sede comunale di via Lende. L'ispezione cui hanno partecipato il sindaco Ettore Di Ventura, l'assessore ai lavori pubblici Massimo Muratore, il dirigente scolastico Concetta di Falco Mustazella e la docente Maria Gabriella Pugliese è stata organizzata per valutare varie ipotesi logistiche e propedeutiche al trasferimento in questo stabile delle classi appartenenti alle due scuole chiuse per problemi strutturali. Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di rendere i locali idonei alla presenza degli alunni, fissando come priorità l'obiettivo di ricondurre alla normalità l'orario delle lezioni per quelle classi costrette ad operare il regime di doppi turni. Soddisfazione è stata espressa dalla preside che ha apprezzato gli sforzi che l'amministrazione sta compiendo per trovare una soluzione all'emergenza che si è creata. Il sindaco Di Ventura e la Giunta, si legge in una nota, stanno adoperandosi a trovare una struttura capace di ospitare gli uffici comunali attualmente a locali in via all'ente. Sono al vaglio varie ipotesi per la scelta delle quali comunque si sta prestando particolare attenzione ad evitare eventuali disagi per i cittadini. Il comune di Canicatti sta portando avanti dei controlli mirati a valutare la sicurezza nelle scuole di competenza comunale. La campagna Scuola Sicura è mirata a dividenziare e risolvere le carenze presenti negli istituti scolastici della città. I primi lavori di manutenzione straordinaria sono già stati finanziati. Adesso, dopo la chiusura delle scuole Rapisardi e La Carruba, si attendono gli esiti dei controlli effettuati nelle altre scuole. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici per l'adeguamento alle norme di sicurezza. Questa iniziativa fa parte della campagna Scuola Sicura portata avanti dalle comune di Canicatti per monitorare gli istituti di competenza.